Ehi ragazzi, come va? Io sono Fereniti E io sono Steph e questo oggi giocheremo a The Sims 4 E andiamo subito a salutare i nostri 6 eroi del giorno Che per oggi sono I Love This Game, Stickier, Sylvie03, Ghost, PhoenixTube e Nadia e Vanessa Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione e oggi è un giorno importantissimo Perché le nostre cavie andranno a conoscere la new entry di questa casa Cosa? Senza però saperlo, perché loro ancora non sanno nulla Stiamo per aggiungere una nuova cavia? Certo, assolutamente sì Sono una cavia molto molto interessante da aggiungere Io sono felicissima e spero lo saranno anche loro Ok, mi piace questa cosa Quindi dobbiamo andare in ristorante Loro penseranno che li stiamo soltanto portando in un ristorante di lusso A cenare bene, a fare la bella vita Ma in realtà ci sarà, diciamo, la sorpresina In questo caso non so se sarà una bella sorpresa o meno Magari tipo Lia sarà felice Una Giulia secondo me potrebbe prenderla male Anchiettina Allora, non so come la prenderanno Io spero sia una buona cosa Anche perché Sì? Se loro accetteranno questa cavia Ok Ci sarà una cosa in più Sai che cos'è? Che cosa? Cucina fighissima tutto il giorno Perché sarà proprio il cuoco del ristorante Tanto loro ora non ci sentono Quindi possiamo tranquillamente dire Che sarà il cuoco del ristorante In cui loro andranno a mangiare C'è anche da dire una cosa Cosa? Che è un gran bell'uomo Quindi potrebbe mettere qualche problemino tra le ragazze E io dico già Io dico già che ha un nome incognito Appena lo vedrete secondo me capirete di chi stiamo parlando In ogni caso Ok Direi di iniziare Prima di tutto vi dobbiamo mostrare una cosa Che si riferisce allo speciale di The Sims 4 contro Tessa Guardate cosa abbiamo fatto Guardate Guardate Questa è la stanza di Tina ovviamente Guardate cosa l'abbiamo messo nel comodino Guardate Con tanto di iscrizione te l'avevo detto Questo Questo è un insegnamento Esatto Perché noi non l'abbiamo messa solo per farci due risate Ma per far capire a Tina Che se si comporta male E continua a fare la persona terribile Farà la fine di Tessa Ne comparirà un'altra qua Non si sa di chi Però ne comparirà Ne comparirà Probabilmente la sua Esatto Era quello il senso ma non mi ha capito Oggi non ti sto capendo Scusa mi dispiace Non siamo in sintonia oggi Sento che c'è qualcosa che ci divide Ma cosa vuoi che ci divide? I pensieri I pensieri Comunque Comunque Vestiamo riprendere al ristorante Certo Vestiamoli bene Perché è un posto di lusso Ok Quello che andremo a incontrare È uno chef rinomato Quindi non possiamo fare brutta figura Scusami Sto incantinando Oggi non ti perdono nulla Non mi perdoni oggi Ok Iniziamo da Riccardo Sono curioso di vederlo in versione formale Vai formali? Uè Bellino È proprio un signorino Vero? Un signorino sì È carinissimo Federico dai Bellino Io non mi ricordo come gli ho vestiti Quindi non ho colpa Oh dai Carino Ok Gli occhiali un po' ogni 80 Però guarda lui Ecco qua Il principe azzurro Il Backstreet Boys è diventato È diventato Uno che fa parte Già che suona È diventato uno che fa parte di una boy band Di quelli che ballano tutti in bianco Capito? La cosa che mi sorprende È che Tina e lui Non si sono ancora Uniti Avvicinati Avvicinati Lei sogna di andare sempre a un ballo Quindi si prepara Perché dice Non si sa mai Incontrerò l'uomo della mia vita Che lui C'è la fianco Ma non lo vede Ascolta Non possiamo forzare le cose Hanno i loro tempi Ok Come l'hai vestita lei Scusami Cioè John Lennon È lei che si è voluta vestire così E non c'entro nulla A lei piace vestirsi in questo modo Che critica Ma non è elegante Certo che è elegante No Ad esempio mi vestirei più così Che come ti Non morire Non morire Guarda Guarda lì invece Che stai brillando al buio della notte Sì sì Eh Le piace essere appariscente Lo sai che vuole piacere a tutti Quindi si veste Nel modo più bello possibile Posso averti notare un problema? Ahà Sono tutti pronti Ma sono le 5 Forse è un po' presto per mangiare Dico Oddio Almeno alle 7 In certe parti del mondo si cena anche alle 6 e 6 e mezza Quindi magari vai lì Ti fai l'aperitivo Ok Ok Allora andiamo e vediamo Una buona idea Va bene sì Abbiamo un problema Io non so cosa è successo Guarda Beatrice Cioè io ti dirò solo Guarda Beatrice Era la cavia di cui andavamo più fieri E guarda cosa ha fatto Questo è perché l'hai criticata Ha sentito le tue critiche per il suo vestito E ha deciso di andare Li ha strappati Li ha strappati comunque Di andare in costume da bagno Io ragazzi non so cosa è successo Allora noi abbiamo cliccato Viaggia verso il ristorante E li abbiamo ritrovati così Penso che si siano cambiati È un chiaro messaggio Noi gli abbiamo detto È meglio se vi vestite così per questo posto Loro hanno detto No Noi stiamo meglio vestiti così Si stanno ribellando Esatto Si stanno ribellando Si stanno ribellando al nostro potere Questo inizia a non andare bene Secondo me hanno già capito Che c'è qualcosa sotto oggi E quindi dici che si sono messi d'accordo È il contrattacco È il contrattacco Stanno cercando di counterarci È impossibile questo perché non se lo aspetteranno mai Cioè io mi vergogno per loro E vabbè lasciamoli vestiti così Fatti loro Tantanto sono loro No aspetta Almeno metti qualcosa Beatrice Per favore Beatrice Non puoi andare in costume O in che cosa ti sei vestita Per favore Ok Almeno mettile un abito da giorno Qualcosa del giorno Quotidiano Quotidiano Facciamo da festa C'è un tavolo libero Perché è un po' il posto Ok sì Ci fa Cendo che possiamo andare Dove Dove stiamo andando Scusi Fuori Segregati Probabilmente siamo vestiti troppo male Per stare dentro Anche secondo me Ok ci ha mollato fuori Ma dai Ma ci sono gli ombrelloni Stavo mandando in un ristorante di lusso Questa è colpa dell'orabbigliamento Vedi È colpa dell'orabbigliamento Si dovevano vestire bene E invece guarda come si sono conciati Io non ho parole Non ho parole Aspetta lo facciamo dopo Lo facciamo dopo Allora Possiamo scendere quello che vogliamo Un piatto e una bevanda Per ogni sim Vedi che qua selezioniamo sim No ci divertiamo troppo Adesso gli facciamo scegliere C'è pure la scelta dello chef Vedi E poi faremo vedere lo chef Perché ancora non l'abbiamo presentato Esatto Allora qua ci divertiamo un sacco Cosa gli scegliamo da bere e da mangiare Allora Iniziamo da Chi scegli per prima Lia Succo di mela frizzante Ci sta benissimo secondo me Poi Lia che vuole accontentare tutti Secondo me prenderebbe la scelta dello chef Esatto Assolutamente Ma c'è anche il dessert No dobbiamo prendere anche il dessert Scusa Il primo è il dessert ci vuole Ti prego Ok Allora Facciamo i primi Dai non ho voglia di antipasti Facciamo Lia polpette all'italiana Sì perché si vuole integrare Sei bravo Mi sei piaciuto Vero Mi sei piaciuto perché si vuole integrare Con la cultura italiana Quindi Vuole assaggiare anche i piatti Esatto E come dolce Cosa dici Un bel cornetto classico Il profiterol Profiterol Sì mi piace Mi piace Ok Ok Ma non è che ci ha annullato Eh sì Vero E allora facciamo Che il dessert Magari lo prendiamo dopo Ok Dopo che finiamo di mangiare Ok Come nei ristoranti Che insomma Finisci il pasto E poi ti orvi il dessert Le polpette all'italiana Secondo me le vuole anche Riccardo Anche per lui dici Sì 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 Sento che gli piacciono le polpette Allora Bevande Vediamo un po' Allora Giulia 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 Secondo me Cosa può prendere Il tang e zing Secondo me Te lo stavo per dire Mi sembra una cosa un po' particolare Lo stai mettendo per Tina Io ti do Giulia Scusami Giulia Ok 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 E anche per Federico Sì Le ordiniamo la stessa cosa Per tutti e due Ok Sono d'accordo Tina invece Tina secondo me Qualche bevanda Un po' più elaborata Anche se poi ci sono tutti Miscela di Nettare Rosso Bello Poi ti stavo per dire Prendi da caldo Come un'estate Giulia Fai paura È terribile In una notte del buio andato È terribile Smettila Ti licenzio come scienziata E prendo Gina No Ti ricordo che abbiamo anche Gina No Quindi smettila Questa miscela Io la farei prendere Sia a Tina Che a lui Stiamo già formando le coppie Dici Sì Sta succedendo qualcosa Ok E poi per finire Ovviamente Qualcosa alle erbe Quindi un bel Per Beatrice Per Beatrice C'è qualche infusione Vabbè un tè è alle erbe Questo L'Erl Grey So che piace un sacco di persone Esatto È perfetto per lei Adesso vediamo con il cibo Frittata di spinaci Sì è vegetariano Ok Ok Perfettissimo Allora Per Tina Salmone In crosta di erba Mi sembra abbastanza Elaborato Per una persona Dov'è? Qui giù Qui giù Qui giù Qui giù Ok L'hai visto? Sì 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 E allora facciamo prendere anche a lui Assolutamente 417 dollari Semoleon Ok È abbastanza caro Vabbè è un ristorante di lusso Anche se i piatti non mi sono sembrati tanti di lusso Io vorrei criticare lo chef Dov'è lo chef? No 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 Lo chef sarà la nostra nuova casa Voi cercarlo Voi cercarlo nel mentre che ci arrivano i piatti Chef Dov'è finito? Questo Non è Non è Valentina direi che non è lo chef C'è un altro chef Dov'è il nostro chef? Si è nascosto Si è nascosto Probabilmente in giro Magari Magari Non sta lavorando oggi Secondo me non si vuole far vedere Prima dell'ov Cosa sta facendo Tina? Ma guarda lì Non ci credo Stanno flertando? Tina no Tina ha iniziato a parlare Con un ragazzo Che è passato qui per casa Però è sposato L'hai letto? Tina ha preso che Bjorn È sposato con Clara Ma è Bjorn di Vikings Sembra Bjorn di Vikings Esatto L'ho pensato anch'io Tina Che poi è uguale anche A quello di Vicky Ok Abbiamo capito una cosa Tina è Si è arrabbiata Guarda si è arrabbiata Perché ha scoperto che è sposato E quindi non ci può flertare Esatto Secondo me Tina è attratta dagli uomini Più vecchi di lei E soprattutto già impegnati Perché sa appunto che non li può avere Vuole fare la spascia famiglie Ecco cosa vuole fare La spascia famiglie Ce la vedo bene Potrebbe essere un problema Tina è terribile Vedi Potrebbe essere un problema per Luca Luca si dovrà impegnare tantissimo Ma che cappellino si è messo È davvero brutto con questo cappellino Non ne ho idea Io non ci credo Tina ci ha provato E ce l'ha la moglie a fianco Che figuraccia Che figuraccia Solo Tina può fare queste cose Comunque Ma dai la moglie è anche più bella di Tina Vero Guarda com'è elegante Cioè elegante La sta guardando Stai dicendo Stai dicendo Quella lì voleva provare a rubarmi molle Ma l'hai visto che aveva una penna in mano Secondo me stava pensando Quella spascia famiglie Che non sa neanche disegnare Questa voleva combinare Continua a guardare verso lì Eh Eh sì Secondo me Stai cercando rogne Secondo me Sembra che tiri i coltelli da un momento all'altro Aiuto Stia calma signora Con il tiratore di coltelli Capito Lì devi schivare Non ammazzi nessuno La prego Poi hai visto quante cose fa alla volta Sì Guardala Bravissima 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 Sta flertando con Tina Che succede? Oddio La rosa Luca sa come si fa Federico dovrebbe imparare qualcosa Dovrebbe osservarlo bene Guardalo Guardalo Guardali Guardali Io non ci credo Io non ci credo E anche lei mi sembra Che sia Capito Che stia accettando questi suoi flirt Perché mi sembra contenta È il posto giusto Poi ha capito subito Che era il momento giusto Vai vai continua Continua Allora complimentati per l'aspetto Aiutiamoli a creare qualcosa Dai è il nostro compito In fondo Manda un bacio Perfetto Mi piace Che è questa? Da dove è arrivata? Non lo so Qualcuno ogni tanto si avvicina a parlare nei tavoli Non so Si sposti Cioè stiamo osservando la relazione tra loro due Ci sta disturbando Scusi Ok io non ho parole Ma non è arrivato il cibo Sono alle quattro e mezzo del mattino Hanno fatto più tardi in ristorante che in discoteca Scusa poi i soldi ce li hanno presi pure Non ci hanno dato da mangiare? Si Questo ristorante è una truffa Sono arrabbiatissima Sono arrabbiatissima Non ci è arrivato il cibo Bellino esteticamente il ristorante Ma davvero Non ci torneremo mai più Non ci torneremo Possiamociare una recensione negativa? No Non c'è il modo Perché io vorrei lamentarmi Mi vorrei lamentare Perché io mi vorrei lamentare Vorrei dire qualcosa Perché non va bene Non si può far venire qua lo chef Così No ce ne andiamo Ce ne andiamo Non ce ne vanno Non torneremo mai più in questo ristorante E appena vediamo la nuova cavia Gli spacchiamo la faccia Assolutamente Ok siamo tornati a casa E guardate un po' Lia sta dando spettacolo Sta improvvisando un numero comico Sta finalmente mostrando le sue abilità di intrattenitrice E guardala Infatti è felicissima Anche la colonna sonora con quest'altro che si mette a suonare e cantare una ballata Io non ho parole È bellissimo Guardali E gli altri ascoltano Ascoltano Secondo me stanno cercando di far finta di nulla Non vorrei dire Secondo me sono felici E gli fa piacere che almeno qualcuno Dai io sto notando che si stanno ambientando nella casa Stanno proprio capito Rilassati E fanno quello che gli piace Guarda Lia Lia è infermabile Non la puoi fermare Non la puoi fermare È felicissima Racconta una barzelletta Vai Lia Facci sentire un po' Eh sì 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 Hai ragione Molto divertente Fai ridere a tutti Ha un futuro Ha un futuro come comico Ma non perdiamoci in chiacchiere Non perdiamoci in chiacchiere Perché c'è lui Eccolo qua C'è lui La nuova cavia Guardate che uomo elegante Siccome nel ristorante ci sono stati dei problemi E non è stato servito il cibo alle nostre cavie Lui per scusarsi è entrato in casa E ha iniziato a cucinare Dato che sono rimasti a stomaco vuoto Esattamente Sapete come si chiama Si chiama Cracco Salsaforte Ovviamente Non è una coincidenza Ovviamente per chi non l'avesse capito Ma penso che l'abbia capito chiunque È Carlo Cracco Esatto Ha messo un nome così capito Un po' strano Per non farsi accorgere che lui Sai perché? Perché altrimenti Se le cavie gli fanno fare una brutta figura Non lo assumono più a Masterchef Capito? Ho capito È una cosa grave questa Quindi lui ha deciso di partecipare Ma con un nome diverso Ok guarda sta servendo da mangiare Non lo so vabbè D'altronde non è un cameriere Non è un cameriere È uno chef Ognuno si prende il suo piatto E finalmente possono mangiare Lia sta ancora raccontando barzellette Lia vieni a mangiare Lia Lia su dai Vieni qua dai Glielo vorrei anche io Un pollo che brilluccica Guarda che figo Sì perché lui poi Ha delle abilità di cucina Altissime Ovviamente Quindi visto come sbrilluccicano i suoi piatti Sì Sono fantastici Mi sta facendo venire fame Anche a me Te lo dico Ci fermiamo con il video per andare a mangiare Assolutamente Molla tutto Ok Comunque Bellini Dai Bellini Secondo me Mi sembra che la nuova cavia Cracco salsaforte Si sia Si è fatto perdonare subito Si è fatto perdonare E si sia anche ambientato Perché mi sembra contento I ragazzi mi sembrano tutti felici di mangiare Quindi direi che è un buon inizio Io ti dico una cosa Secondo me Federico e Luca Devono stare attenti Perché Cracco va forte con le donne Cracco è un bell'uomo Cioè piace anche a me Cracco Cioè cascherei pure io Guarda te lo dico Dovresti stare attento Un po' di più Cracco è proprio un bell'uomo Lo so Lo so Quindi bisogna stare attenti ragazzi Dovete impegnarvi Conquistare le vostre ragazze Perché Cracco potrebbe fare piazza pulita Assolutamente Ok ci fermiamo così In ogni caso vi vogliamo chiedere una cosa Come sempre Esatto Come sempre Ci è venuto in mente Dato che hanno aggiunto appunto una nuova espansione Anche se non è probabilmente una espansione Con i ristoranti Abbiamo pensato di fare una miniserie Che va oltre a questo Quindi saranno due episodi alla settimana di The Sims Dove gestiamo un piccolo ristorante Con Stere, Nikki e Diana Esatto Anche perché se ben ricordate Diana ha il canale di cucina Quindi penso che potrebbe essere molto brava A gestire un ristorante Esatto E che potrà farci diventare famosi Quindi sarebbe carina Ovviamente sarà separata da questa serie Esatto Sarà una cosa totalmente a parte Però ci è sembrato un modo carino Per sfruttare al meglio I ristoranti su The Sims Quindi fateci sapere nei commenti Se lo volete vedere Speriamo di sì Perché secondo me Sarebbe divertente da fare Potrebbe È bello gestire un ristorante Regalare tante soddisfazioni Esatto Scegliere il menù Esatto Arredare il ristorante C'è un sacco di roba da fare Il personale Licenziarlo Picchiarlo Licenziare Licenziare Cosa ho detto? Tutti Licenziamoli Licenziamo tutti Quello volevo dire Ma non è vero Non mi capisci oggi Non mi capisci E nella prossima puntata Sapete cosa andremo a fare? Ovviamente andremo a vedere Il lavoro di Cracco Che ovviamente sarà in un ristorante Giusto? No Sai cosa ho pensato? Allora siccome Lo sai che qui I lavori li assegniamo noi In questo esperimento Siccome lui è uno chef rinomato Famosissimo Con un sacco di stelle Lavorerà da McDonald's Tornerà alle sue origini E vediamo Se succederà qualcosa Magari può fare un certo effetto Nella personalità di un uomo Farlo tornare Alle origini Proprio dai primi lavori Che ha iniziato a fare Non mettere un Cracco A lavorare da McDonald's Adesso ci uccide Perché ci ucciderà Perché è una cosa bruttissima Questa ma va bene Perché noi ci divertiamo Quindi va bene E l'altra cosa che faremo Nel prossimo episodio? Il lavoro in casa Perché se vi ricordate Quando vi abbiamo fatto vedere Le stanze Erano giuste per sette persone Quindi ora che siamo in otto Ovviamente non c'è La stanza per Cracco Comunque un letto Uno spazio suo Adesso vediamo Quindi nel prossimo episodio Penseremo anche a sistemare la casa Anche perché penso che ormai Si è arrivato il momento Che ogni ragazzo Arredi il suo posto È il momento giusto Di arrivare a fare quello Ci sarà da divertirsi Ne sono sicurissimo Ok ragazzi Il video finisce così Se vi è piaciuto Ascettici un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao ciao